Un piacere divino ascoltando il respiro mi prende alla gola, mi sento isolata dal mondo che gira, che grida, che uccide l'anima. Un artista senza tempo sul palco della fortezza di Arezzo, nada protagonista con il suo tour estivo dal titolo La paura va via da sé, se i pensieri brillano. Dopo il tour nel club e nei teatri, Nada ha portato il suo spettacolo in full band sui palchi dei più importanti festival estivi italiani, uno spettacolo rock ma allo stesso tempo intimo e profondo. Nada ha portato il suo repertorio completo con i brani sempreverdi, dama che freddo fa, ad amore disperato, a quelli più recenti, per un concerto assolutamente unico nel panorama della musica live nazionale. Non diranno a nessuno che c'è un bantone lo disumano, un malessere che è forte e che fa male male.